Grazie, Presidente. Allora, una domanda supplementare al Commissario. Abbiamo capito che non abbiamo il quadro chiaro per quello che riguarda la procedura di eventuale ratifica da parte dei Parlamenti nazionali, ma qual è la maggioranza che dovrà votare questo accordo al Consiglio? È una maggioranza qualificata o è una maggioranza per consenso? Anche questo è una cosa che non ho capito, credo che sarebbe importante cogliere questo elemento della base giuridica. Aggiungo che ho trovato sorprendente il tenore di questo dibattito. Mi pare che ci sono molti, molti accenti preoccupato e quindi io rinnovo alla Commissione l'invito a lavorare insieme. Siamo sicuri, Commissario, che lei farà un ottimo lavoro, ma per usare un altro proverbio coreano, chiedi la strada anche quando la sai.